Questa volta sono venuto vedere le cascate dal lato dello Zambia. Un fumo pazzesco, ce le ho davanti, le cascate dello Zambia, cascate, vittoria. Cascate, vittoria. E' un fumo impossibile, non si vede niente. Eccolo il ponte che ho fatto prima, che separa lo Zimbabwe a destra, da lo Zambia a sinistra. Il ponte, ma è impossibile, è impossibile, piove troppo, attenzione. Sono invisitabili le cascate, perché è come fare una doccia, è impossibile. La pioggia, ma c'è il sole. E' vivibile. Aspetta il momento buono in cui vada via il vapore e poi... Paz, eccole che si vedono meglio. Una fumera è impossibile. Si dovrebbe andare in giro il costume da bagno più che altro. Sentire un non brutetto a valle. All'interno invece non piove, per fortuna. Vedete la pioggia insessante che cade là in fondo? Io non ci vado. Ma non è pioggia, è cascata. Oh, che bello il ponte di prima. Oh, che bello. Dove vedete quel ponte là, è impossibile passare. Piove. Sono le cascate, sono sopra le cascate. Eccomi sopra le cascate. Sì.